E' una professoressa della Bucconi, attualmente per l'area Public Management, è presidente di ARCA, l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia, per quanto riguarda la dottoressa, invece, Puglia Müller-Sara, è un dottore commercialista, ha seguito numerosi incarichi di ristrutturazione e svolge l'attività di libero professionista come commercialista, è stato consulente tecnico di vari tribunali e ha avuto anche un'esperienza in Big Four della revisione contabile e della consulenza finanziaria. Per quanto riguarda invece il dottor Maurizio Scazzina, anche lui milanese, dottore commercialista, ha un'esperienza anche lui presso Big Four, è specialista di società in crisi e si è anche occupato di salvataggi e comunque ha numerose incarichi, ha raccolto numerosi incarichi anche in società di gaming e è stato anche presente in crisi sindacale di ILVA, quindi conoscono le tematiche anche di rapporti pubblico e privato riguardo alle aziende eventualmente partecipate o comunque dove l'interesse dello Stato è notevole.